Sono sorella Marra, faccio parte del Corpo delle Infermiere Volontari della Croce Rossa Italiana e ho partecipato all'apertura di questo centro vaccinale, è stata un'emozione grandissima, mi sono sentita parte di un momento storico. Io sono Carlotta, sto lavorando al centro vaccinale, un'esperienza sicuramente utile al fine di farci uscire da questa drammatica situazione e dare una speranza a tutti. Sono Rocco e oggi è il mio primo giorno di lavoro qui a Fimicino con la Croce Rossa e penso che sia una cosa importantissima della vaccinazione, quindi ho voluto essere uno di quelli che si impegnano per tale scopo. Buonasera, Marisa, del Italia della Croce Rossa. Oggi è il primo giorno che faccio servizio qui a Fimicino, è molto bello perché prima di tutto accogliere le persone con un sorriso, rassicurarle perché dentro trovano un ambiente gentilissimo e carinissimo. Svolgere un servizio pubblico, felice di vedere che non passa un minuto senza una persona che va a vaccinarsi, questa è la cosa più importante. Sono Giulia, lavoro al centro vaccinale di Fimicino, sono un medico e ho deciso di contribuire anche io la campagna vaccinale e mi sento parte di qualcosa di grande che ci servirà sicuramente a uscire da questo periodo che tanto ci ha fatto soffrire. Sono Ludovico, volontario della Croce Rossa, diciamo che è un'esperienza molto bella e interessante in quanto svolgere un servizio pubblico in un periodo come questo è molto importante. Sono Franco, sono volontario della Croce Rossa da più di 10 anni e mi trovo qui per cercare di dare una mano a tutti i cittadini che vogliono vaccinarsi, rendendo la loro permanenza in questo posto qui più confortevole possibile. Io sono Concita Martini, sono un'infermiera spagnola e sto lavorando qui a Fimicino per i vaccini Covid da 15 giorni. Oggi per esempio è iniziato ad arrivare la gente dopo i 70 e questo per me è stata una grande emozione e le persone più grandi per il fatto che finalmente iniziamo a coprire più gente. Perciò veramente è bellissimo, sono felice di poter partecipare a questa campagna come infermiera e veramente mi sembra faboloso questo lavoro che sta facendo la Croce Rossa. Grazie Italia per offrirmi questa opportunità di poter partecipare come infermiera a questa vaccinazione. Grazie!